Penso che sia una grande opportunità per fare questo corso, per un futuro lavorativo. Si sono incontrati per la prima volta al Paradise di Carpignano, gli allievi dei due anni di corso dell'ITS Antonio Bruno di Grotta Minarda, un momento importante in cui i giovani che si apprestano a terminare il loro percorso all'interno dell'Istituto Tecnico e che hanno già terminato lo stage in azienda, hanno potuto raccontare ai loro colleghi al primo anno di corso la loro esperienza lavorativa. Un'esperienza che per la maggior parte dei ragazzi si è poi tramutata in una vera e propria proposta di lavoro. Abbiamo deciso di fare questa serata, questo evento, per far conoscere i ragazzi dei tre corsi, per cui è un'occasione di confronto di far vivere un po' le loro esperienze reciprocamente. I ragazzi hanno fatto un salto di qualità in avanti notevole. Il primo corso ovviamente hanno fatto un percorso ormai quasi di un anno e mezzo, quindi la parte di lezioni teoriche e la parte di stage presso le aziende. Veramente si sono affermati con successo presso le industrie dove sono stati e quasi tutti i ragazzi hanno ricevuto una proposta di lavoro per il futuro. Le aziende soprattutto sono molto molto contente di quanto hanno fatto questi ragazzi e di quello che hanno dimostrato di saper fare. Certamente non è completo ancora il corso, comunque abbiamo da fare ancora 600-700 ore di formazione in aula e dopodiché cominceranno il loro percorso professionale. Sono i tecnici del futuro questi qua. L'ITS funziona, dice il direttore Carmine Tirri, accorcia quel gap tra scuola ed imprese ed è una realtà sempre più in crescita. Ne è la prova la nuova classe formata a Lioni per dare l'opportunità anche ai ragazzi dell'Alterpinia di frequentare agevolmente le lezioni e soprattutto le continue richieste da parte delle aziende di diventare partner della scuola di alta formazione di Grotta Minarda. Oggi le industrie chiedono meccatronici, le industrie che sono nostri partners sono circa 36 aziende ognuna fa richiesta di ragazzi di meccatronici e oltre a questi stagisti ce ne chiedono altri quindi c'è veramente una bella domanda. Anche le aziende che non sono partners ci chiamano continuamente per progettisti 3D, manutentori elettromeccanici, softwareisti, conduttori di macchine a controllo numerico veramente stiamo scoprendo delle cose molto molto interessanti quindi si sta diffondendo molto il nome del nostro istituto e speriamo di poter soddisfare tutte le richieste che ci sono. Il successo di questi ragazzi è anche quello del corpo docenti che segue gli allievi in alcuni casi provenienti anche da licei o istituti d'arte passo dopo passo indirizzandoli e formandoli per entrare nel mondo del lavoro. È un'iniziativa l'ITS che finalmente copre un gap tra la scuola e il mondo del lavoro. Questa iniziativa l'ITS dà l'opportunità di formare dei ragazzi e di prepararli all'inserimento nel mondo del lavoro per evitare che si trovino a disagio e per prepararli al futuro. Mancava in questa zona ed è un collegamento molto importante. Il percorso di studio prevede una serie di discipline e i ragazzi sono molto impegnati perché chiaramente non è un fatto didattico ma è un fatto di preparazione alla vita e al lavoro che è molto importante. Come ha trovato questi ragazzi quando sono arrivati e come li lascia ora che hanno terminato i cinque mesi di stage? Disorientati perché non avevano afferrato, ho capito bene la ragione di questi corsi mancava di motivazione probabilmente. Io ho cercato di fornirgli la giusta motivazione per, come dire, riattivare o riallineare la volontà di studiare perché la formazione è studio. Senza studio non si può migliorare nella vita privata e lavorativa. Un anno riuscito, molti di loro, quasi tutti, hanno ricevuto una proposta di lavoro dalle aziende dove hanno effettuato lo stage. Sì, io sto lavorando presso alcune aziende perché faccio il consulente in zona e ho visto tre ragazzi di corsi usciti dall'ITS che sono inseriti molto bene con umiltà, con voglia di imparare. Vedo che ne stanno tenendo grande profitto. Stefano, hai terminato il tuo percorso all'ITS Antonio Bruno di Grotta Minarda. Come ti sei trovato? Sì, ho finito i cinque mesi di stage previsti dal corso per il tecnico meccatronico. Ho fatto lo stage presso la Taurasi Engineering di Mano Calzati, una azienda che comunque si occupa di progettare e realizzare tutti i componenti meccanici di alta precisione e durante lo stage ho potuto mettere in pratica tutti quelli che erano i contenuti che ho appreso durante la fase teorica del corso. Io ho fatto tirocino presso la Denso Thermal System che praticamente comunque è una multinazionale del suo settore. Posso ridermi molto soddisfatto in quanto io ho lavorato nella manutenzione, in quanto mi occupavo di non intervenire sui guasti che c'erano sulle linee o meglio ancora cercare di prevenirli in modo da dare di portare avanti questa produzione ad alti livelli, quindi senza intoppi. È stato molto bello riuscire a capire la parte elettronica dell'azienda, quindi il cuore dell'automazione. Mi trovo benissimo, dovuto a chi ho la confianza del titolare dell'azienda per fare il processo di produzione lo più ottimo possibile, ridurre i tempi di preparare tutte le macchine e aumentare la produzione. Per quello mi trovo benissimo, per aver fatto anche il processo di imparare come il di manutenere adesso l'azienda dove lavoravo. Oggi incontrerete i ragazzi che sono al primo anno, qualche consiglio per loro? Sì, sicuramente quello di cercare di recepire tutto nella fase teorica del corso, perché è nella fase teorica che uno si prepara per poi entrare nel mondo del lavoro, anche grazie alle figure che entreranno, soprattutto le figure che vengono già dal mondo aziendale, perché fanno capire già come ci si deve comportare all'interno dell'azienda e quindi non rimanere impreparati, soprattutto nei primi mesi, anche durante lo stage. Devono prendere come oro colato tutto quello che gli viene insegnato, perché poi gli sarà d'aiuto per quanto si ritroveranno ad interfacciarsi come una realtà aziendale. Di prenderla sul serio, in quanto gli argomenti trattati durante lo stage sono molto complessi, in quanto si tratta di cose più pratiche che ovviamente in aula si fanno solo in modo teorico. Però quello che avete fatto in aula vi è servito nel momento in cui siete entrati in azienda? Sì, sì, in quanto ovviamente c'è bisogno della base per poi apprendere la pratica. È stata un'esperienza positiva? Assolutamente, io ho iniziato questo percorso ormai più di un anno fa e devo essere sincero, sono molto soddisfatto perché oltre a darmi molte opportunità a livello lavorativo, mi sta formando anche a livello umano e spero che comunque ormai ho capito che questa sarà la mia carriera lavorativa, quindi questo voglio fare. Giuseppe, hai iniziato da poco questa esperienza all'ITS Antonio Bruno di Grotta Minarda. Finora come ti stai trovando? Mi sto trovando molto bene, i docenti sono preparati e insieme stiamo affrontando questo percorso che spero mi porterà ad un livello superiore rispetto a quello che ho acquisito con i miei studi precedenti. Innanzitutto desidero uscire all'ITS con una formazione che poi mi garantisca un posto di lavoro perché quello in cui credo è proprio la continua manutenzione delle conoscenze e quindi l'acquisizione di nuove competenze per poter essere competitivo nel mercato del lavoro. Che cosa ti ha convinto a fare questo passo, a scegliere l'ITS? Quello che mi ha convinto è stato proprio l'approfondire determinate tematiche che per forza di cose non sono riuscita a approfondire in passato e quindi ho colto l'occasione e credo che questa esperienza faccia evolvere su queste tematiche. Quando andavo a scuola già ho fatto alcune conferenze sull'automazione e mi sono sempre molto interessate. Quando ho scoperto che c'era questo bando per questo corso all'ITS non ci ho pensato due volte ad iscrivermi per approfondire queste conoscenze. Perché hai scelto l'ITS e non l'università? Perché penso che l'ITS dà più possibilità lavorative, invece l'università come siamo ai giorni d'oggi non si sa mai come va a finire dopo aver trascorso cinque anni di studio o anche più. Grazie mille.